Come aprire la navigazione in incognito Dalla pagina principale di Google, puoi usare i tasti rapidi CTRL, maiuscolo, N, per accedere direttamente alla pagina di navigazione in incognito. In alternativa puoi cliccare in alto a destra sui tre puntini. Qui potrai aprire una nuova scheda con il comando CTRL più T, una nuova finestra con il comando CTRL più N. È una finestra di navigazione in incognito con il comando CTRL, maiuscolo, N. Ti ricordo che la finestra di navigazione in incognito non salverà la cronologia di navigazione, i cookie, i dati dei siti, e le informazioni inserite nei moduli. Potrebbe comunque essere visibile ai siti web visitati, al tuo datore di lavoro, alla tua scuola o al tuo provider di servizi internet. Da questa pagina, aprendo una nuova scheda, aprirai direttamente una scheda in navigazione in incognito. Per uscire dalla navigazione in incognito e tornare alla navigazione Google classica, non dovrai far altro che chiudere la pagina dalla X in alto a destra. Metti mi piace ed iscriviti per sostenere il canale.